Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts 3 a livello 1. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Grumo d'orrore, era? Non mi ricordo. A Mostropoli. E oggi andremo al boss di Arendelle. Comunque vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E sono stato un grande, grande, ma grande idiota. Perché? Allora, l'abilità salva PM è inutile. Ovvero, lasciatemi spiegare. È un'abilità buona, per l'amor del cielo, è fantastica. Disattiva la ricarica quando esaurisci PM. Non è affatto vero. Non vi permette di finire i punti magia con le magie normali. Non è affatto vero. Praticamente, ora... Ora, prenderò qualche secondo per spiegarvi. Uso Blizzard. Lo spammo fino alla morte. Vedete? Niente di normale. Anzi, niente di anomalo. Adesso posso usare solo energia. Ok? Invece, se disattivo l'abilità... Visto? Posso finire i punti magia. È totalmente un errore. È un errore, questo coso. Cioè, la traduzione è orrenda. Sarebbe stato meglio dire, non fa finire i punti magia. O roba del genere. Non disattiva la ricarica quando esaurisci i punti magia. Cioè, uno pensa che appena finisce i punti magia, in maniera precisa, come pensavo io, la ricarica era istantanea. E invece no. Cioè, tipo così del punto di salvataggio. Ma in realtà non è vero. Cioè, vabbè. Ora, dopo questo coso momentaneo, vi faccio vedere i miei parametri. Perché mi serve questa abilità, anche se ho detto che fa schifo. Però serve per un'energia. Allora, direi di mettere al posto di... coso? Di catena regale un altro keyblade. Perché assimile in questa battaglia non mi serve. Direi... Direi vice preferito. Mi può servire. O se no... Questo. No, vice preferito. Vice preferito va bene. Perché la sua schivata sotterranea di trapugno è davvero buona. Comunque, vice preferito. Luce stellare. Eternità. Fiocco. Fiocchetto. Talismano stella. Amuleto lunare. Monile schernidore. Poi, uno, due, tre, quattro pozioni. Adesso, paperino, asta magica, gala suprema plus. Coccarda della neve. Collana master. Bona. Davvero buona. Monile del mago. Scudo guerrilla plus. Per Pippo. Cavigliera del caos. Scusate, non leggo tanto bene. Collana di abante. Anello esperto. E anello d'oliarco. Per marshmallow, ovviamente, niente. Quindi, avevo anche l'idea di mettermi dei piatti. Però non so quali. La ratatouille plus. Questo qui. Perché, mamma mia, questo boss. Ho paura. Mi ha dato difficoltà, se vi ricordate, prima. Ora, non mi ricordo il suo nome. Ma dovrebbe essere tipo... Teschio, in inglese. Skull. Skull. Che fai Skull? Vabbè. Allora, così mi aumento leggermente la difesa di uno. È un miracolo. Direi questo qui. Dovrà aumentarmi l'attacco. Così va bene. E la mossa al cioccolato. No, la crepe. Sì, va bene così. Consumiamo. 32 minuti e tirasa. Benissimo. Davvero, davvero bene. Vuoi salvare questo? Sì. Ok. Perfetto. Ok, abbiamo Firaza. Roba nuova? Ah sì, ho creato l'anello assimilatanto per... Ok. Quindi. Vabbè, non importa. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o un non mi piace. E ora, andiamo dal boss. Ed ecco a voi, Maremma School. Allora. Oh, io, io. Ah, non vedevo l'ora. Allora. Vai. Siamo già a metà vita. Cioè, siamo partiti malissimo. Ok. No. Allora, vi dico subito che l'attacco finale, il suo attacco finale, ho capito come bloccarlo. Il problema è che non c'era arrivato la prima volta. Allora. Vai. Ok, abbiamo Firaza. Di già? Ok. Allora. Quello che avete visto era la moneta cupo. Praticamente mi ha resuscitato, letteralmente. Cioè, mi avrebbe shottato, non ci credo. Ah. Questa pausa mi dà un fastidio. E anche questo lag. Ma poi sto utilizzando un kibble che non è buono in magia, cioè. Dai, dai. Prendilo. Prendilo. No, ho sprecato un coso. Mamma mia. No. 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 Ok. Bravo Marshmallow gli ha fatto un casino di danni. Ora. Eh. In stilupetti è un po' un problema. Allora. Allora. Vai No Ah Purtroppo è forte Davvero forte questo tizio Cioè mi ha già fatto sprecare la moneta cupo Che avevo comprato con Tanto amore Aiuto Ok No 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 Ok Ma perché utilizzo blizzard Ah Ok 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 Benissimo Ah sta andando No in realtà sta andando malissimo Allora Per evitare questo Bisogna usare solo il focus Ok Ok Allora Adesso Dovrebbe No Perché non succede A tutti è successo A me no Non è giusto Ok Impatto sotto zero I'm here Come on Ok 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 Die Ok Ok Mi ha fatto sprecare una pozione Ano Ok 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 Sì, sì. Scusate del silenzio ma davvero Questa battaglia è un po' Difficile Ok 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 Ah Nononononono Ok Ok Va bene Allora Vai di nuovo No 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 Calmo 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 Stai calmo Stai calmo Stai calmo Ok Ok Dov'è il mio patto sotto zero? Il patto sotto zero No ho bisogno di patto sotto zero Non voglio No 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 Ah Prendete Ok, mamma mia! Ok, dai, dai, ce la posso fare, ce la posso fare, allora... Non lui! Ok, no, volevo tenermi punti magia! Ok, no, è troppo lontano... Ok, no, è troppo lontano... Ok, no, è troppo lontano... Ok, ce la sto facendo con difficoltà e mi fa male il cuore... Mi sta battendo a velocità estrema... Letteralmente siamo in estrema... Allora... No, in esperto, non in estrema... Aiuto! No, 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 no! Non provarci! Non provarci affatto! Ok, vai... No! Ah... Ok, fermi... Ok... Ah... Aiuto! Oh, io, hai sbloccato lo scivolo... Non mi frega... Vuoi venire? Oh, io, io... Allora... Scusate se ho tagliato l'ultima parte... Se... Perché... Ora... Un attimo... Nella parte in cui ho sconfitto il boss... Con Firasa... Oh, Firaga... Boh... Ho tagliato l'audio... Ma ho urlato... Oh, io, spero i vicini non mi abbiano sentito... Comunque... Oh, mamma mia... Allora, cosa c'è da fare? Chiectus... Ok... Ehm... Queste due... Un secondo... Comunque, fare la foto prima... Ehm... Vale... Nel senso, io avevo fatto una foto a Chiectus... Ehm... Per l'emergenze... E... È valuta... È valuta, si dice? Insomma... L'ho fatta prima... E quindi... Dopo che mi è arrivata la missione... Il gioco fa... Ah, l'hai scattata... Quindi ce l'hai... Ehm... Non bisogna farla nel momento in cui si ottiene la missione... Anche prima va bene... Allora, devo fare la foto a loro due... Oh, io, io... Ok... Perfetto... Allora, dovrei avere tutte le missioni per adesso... Fatte, vero? Vabbè, la valorazione non importa... Sì, le ho tutte... Oh, io, io... Allora, abilità che ho ottenuto... Super scatto... Che non posso abilitare ora... Oh, io... Se in questo posto era difficile... Gli altri saranno impossibili... Oh, io, io... Allora, il Keyblade... Eh... Addio a questo... Oh, neve cristallina... Sì... Ehm... Al posto... Allora, io avevo detto che non avrei mai messo... Ehm... Più Keyblade... Uguali, però... Vice preferito a scoperto fa veramente schifo in questa lotta... Cioè... Ohioi... Ehm... Forse ho origine eroica e buono... Perché parate e poi con il contrattacco devastate... Boh... Non lo so... Ohioi... Ehm... Vabbè, neve cristallina per ora... Perché davvero... È un bel Keyblade... Ohioi... Allora... Ok... Lag... Di due secondi... Allora... Forgiare... Mamma mia... Cioè... Oh, quant'è indietro sto coso? Io ho tutti al 5... 5 e 4, vabbè... Allora... Potenziamolo perché questo Keyblade è potente... Mamma mia, se è forte... Allora, il 4... Origine eroica non la uso perché davvero non mi piace... Cioè... Va bene fino a un certo punto e poi schifo fa... Allora... Ehm... Damasco... No, basta così, basta così... Posso comprare qualcosa? Ah! Le gran pozioni! Solo qualcuna, eh... Solo qualcuna... Ohioi... Finalmente... Starò più al sicuro... Allora, nuovi piatti... Ok... Nirvana... Ok... Ohioi... Ho il cuore mi sta esplodendo... Non sapete... Ohioi... Ho paura... Ok, cartolina... Quindi... Questo... Era l'episodio... Te, Paperino... Taci... Anche te, Pippo... Per favore, vi prego... Allora... Questo era l'episodio... Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace... O un non mi piace... E ci rivediamo... Al prossimo boss... Alla prossima... Ciao!